Prima la lite, poi l'urlo e un uomo a terra con una profonda ferita alla testa. La violenza scatta poco dopo l'una di notte a Castelfranco, lungo la centralissima via Preti, a poca distanza dal municipio. Un acceso di verbio nato da futili motivi tra due uomini di 41 e 37 anni di origine marocchina e sfociato in un'aggressione che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Il 41enne, in uno stato di alterazione psicofisica, ad un certo punto ha infatti afferrato un sanpietrino e lo ha scagliato con violenza contro il 37enne, colpendolo al capo. Le gride e la concitazione del momento hanno fatto scattare l'allarme e l'arrivo dei carabinieri e del SUEM. Il 37enne, colpito alla testa, è stato portato in ospedale, 10 i giorni di prognosi a causa delle ferite. Il suo aggressore è stato bloccato e identificato. Entrambi i soggetti sono già noti alle forze dell'ordine. Alla scena avrebbero assistito anche un paio di conoscenti dei due, a carico dei quali però non è emerso alcun coinvolgimento. Un plauso alle forze dell'ordine, commenta il primo cittadino, che però avverte. L'attenzione bisogna tenerla alta, la rete tra le forze di pulizia e le istituzioni c'è e funziona. Bisogna tenere alta la guardia, i cittadini sono esigenti ed è bene che sia così, perché significa che funziona anche la rete delle segnalazioni da parte dei cittadini.